eccoli i nostri lavoratori lavoratore con la pallina lavoratore con la zappa una zappa no piccone a petto nudo io non so come faccia stare c'è un freddo non c'è freddo lì e basta guarda tibò dove va eh sì e via passa sopra i fiori nuovi vabbè niente si sta piantando anzi diego sta piantando io l'ho detto prima questo bel taggette multicolor la calendulina una pallina di tibò mi fai passare vediamo laggiù che cosa sta piantando il signorino un'altra calendula e qui cosa c'è la mia amata lavanda allora questa è una varietà ripetimi il nome te lo ricordi ok qui c'è la nostra amata angustifoglia che di solito non viene ne ho già sacrificate varie vediamo se stavolta qua giù viene meglio speriamo e non muore dai forza e coraggio e poi l'ultima che sta che pianterà qua è la questa c'è ancora l'etichetta italianina sto casso è stranissima è bella guardate che roba abbiamo preso ieri con questi bomboloni di fiori fantastiche ecco questi sotto l'ultimo gradino si spera che si verranno fuori questi tre cespugli quello non è un cespuglio è un peloso in mezzo alle scatole sempre cespuglioni di lavanda e poi ci metteremo altre calendule all'accia mi ci sarebbero altre due da mettere altre taggette giallo arancione vedrete poi bene e dietro lei cosa c'è guarda che bel fiori che c'ha lì dietro il maggio giondolo bello vero guardate che meraviglia si non sono da mangiare quelle vero sono velenose bellissime e con questo maggio giondolo vi auguro buona serata buona serata salve salve grazie